Con le festività natalizie continuano e si intensificano i controlli degli agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, coordinati dal Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia in tutta l'isola. In particolare questa mattina si è svolta un'operazione al mercato ortofrutticolo comunale di Caltanissetta, condotta da 15 unità del Corpo Forestale. Sono state emanate in totale 9.000 euro di sanzioni. È stato riscontrato infatti il mancato rispetto della normativa europea sulla tracciabilità della merce, in particolare su diverse partite di agrumi, arance, limoni, clementine, prive della documentazione di provenienza. Va avanti la nostra attività tutela dei cittadini e dei consumatori, dice l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana. Oltre a reprimere le irregolarità e il mancato rispetto delle leggi sulla tracciabilità dei prodotti, puntiamo anche a sensibilizzare gli operatori della filiera agroalimentare sul rispetto dell'enorma garanzia della salute dei siciliani. Quello che arriva sulle nostre tavole deve sempre avere una provenienza certa e legale. Per noi è un valore fondamentale, ha concluso.